Denise Dalzotto classe 2004 di Feltre raccontaci la tua storia. Io sono una pilota del Junior Supersport British Superbike attualmente nel campionato britannico. Ho iniziato a 9 anni con le minimoto guardando Valentino Rossi in tv. La mia famiglia è sempre stata abbastanza appassionata di moto ma non ha mai vissuto in questo ambiente e un giorno guardando Valentino la tv ho guardato mia mamma e ho detto mamma io voglio fare quello. Poi successivamente ho fatto campionato minimoto italiano, ho corso nel campionato Wisp, mi sono spostata sulle mini GP facendo il 12 pollici Italian Cup e ho partecipato anche al campionato CNV 190 in cui mi sono classificata seconda. Quest'anno mi sono spostata al British Superbike grazie a Sandra Stammova che mi ha visto correre e ha deciso di mettermi in contatto con Leon Aslam. Sono andata in Spagna a fare un test con Leon e gli sono piaciuta quindi ha deciso di prendermi per farmi crescere e farmi progredire quest'anno. Ho corso per lui quindi mi sono spostata a vivere in Inghilterra da marzo di quest'anno fino a adesso fino a ottobre. Ho vissuto in Inghilterra a casa sua in un camper insieme a mio compagno di squadra australiano. Ho vissuto lì quindi ho avuto un cambio di vita molto repentino e molto grande. Ho iniziato a vivere da sola, cucinare da sola e tutto quello che insomma bisogna fare quando si vive da soli. Con l'aggiunta di allenamenti, con la scuola fatta in video lezione, ho finito il quarto anno scolastico a Litis Negrelli Forcellini di Feltre. Denisa, cosa sogni ora per il futuro? Io credo che ogni pilota sogni la MotoGP se no perché correrebbe. Però sì, adesso stiamo valutando per il prossimo anno se riusciamo a fare due campionati per farmi crescere il più possibile e niente, queste sono le prospettive più imminenti nel futuro. Ci vediamo presto, ciao! Ciao!